La morte prematura di un giovane ragazzo di 24 anni non può che gettare nello sconforto una comunità intera. Breganze, la triste notizia del decesso di Ernest Moro, 24 anni, è giunta da Treviso, città dove lo studente universitario, programmatore informatico Vicentino, risiedeva da qualche tempo per motivi sentimentali. La tragedia, provocata con ogni probabilità da un malore letale patito nel sonno, risale alla notte tra martedì e mercoledì scorso, il disperato tentativo di soccorrere il 24enne è stato portato dalla compagna con cui condivideva l'alloggio, la quale ha lanciato l'allarme al 118. Purtroppo il personale sanitario di Treviso Emergenza non ha potuto salvare la vita, all'arrivo dell'abitazione indicata era già troppo tardi per poter prestare soccorso ad una vita nel suo pieno fiorire. Il studente di informatica iscritto all'Università di Padova aveva conseguito il diploma di immaturità come perito informatico all'ITIS Chiusotti li tiene. Tra gli amici di Breganze e dintorni, gli ex compagni e delle superiori, la triste notizia è rimbalzata da uno smartphone dall'altro. Si parla in prima ipotesi di morte naturale in base alle circostanze annotate all'esame superficiale del corpo. La procura locale avrebbe comunque disposto l'autopsia come da prassi in casi simili. Il fondo cordoglio è nella cittadina breganzese dove i genitori risiedono e portano avanti le proprie attività professionali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.